Ciao ragazzi! Volete l'autografo? Volete quella di Montella? Del vecchio? Bati! No, Francesco, siamo tanto tristi, Francesco. Perché? Scusa, io capirebbe se in casa la situazione sarebbe più rosa. Eh? Stiamo a andare bene, no? Stiamo a giocare, a segnare, a primeggiare. No, Francesco, i lanziani ci dicono sempre la cosa più bella che c'è a Roma è il cielo. Il cielo è bianco celeste e starà sempre sopra le vostre teste. Francesco, è vero! Che te posso fare? Non puoi fare qualcosa di... Io? Eh beh, io se potrei, io lo farebbe, ma che che... Regà, fatemi andare se sta fa' tardi, poi sto a ritardare e mi devo andare a allenare. Il capello si può uncazzare, poi mi vuole tritare. Iniziamo a fare. Ciao regà! Da sinistro... Da destro... Ma che? Ma com'è possibile? Oh, mazza! Altro che Antonioni, ma quando ti hanno comprato? Sono io che compro tutti! E voglio comprare anche te! Ma chi sei Berlusconi? No, poi guarda, io da Roma non m'ho mosa! Vabbè, mo' me ne vado a lui! Ho sentito quello che hanno detto i tuoi tifosi, c'hanno ragione! Cosa? E allora io ti propongo un patto, tu mi dai la tua anima e io faccio diventare giallorosso il cielo de Roma! Giallorosso! Pazzaporti! Senti un po', ma fa male doloroso! No! Devi soltanto firmare qui! Vabbè! Che c'hai, una penna? C'è l'osso! Ah, vedi che roba! Ma vedi, oh! Ma sei infeloso! E vai! Ma che sei? Ma come ho fatto? Ma chi sei? Ma un drago che sei? Vabbè, normale, conosco delle persone che stanno in alto, sono impegnate e quindi il risultato... Francesco! 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 No! Ma com'è? Ma che è successo? Come che è successo? Guarda che hai combinato! E che ho combinato? Il contratto, ho firmato, Francesco Totti... Roma, lì? Mortaci di Mippo, non avevano abbattuto i spiriti! Ma sì, ma quello non aspettava altro e non me l'ha omologato! Io pensavo che era spiritoso, se vedi che dà la Lazio! Certo, è fastidioso forte! Già così va bene! Poi magari... Poi! Poi!